E' indagato per omicidio stradale l'automobilista 53enne coinvolto nell'incidente di martedì sera a San Giuseppe della Chiusa nel quale ha perso la vita il motociclista 60enne Fabio Petriglia. La procura lo ha già notificato al suo avvocato difensore William Crivellari che al telefono ci ha detto di ritenere che si tratti di un atto ai fini di garanzia nei confronti del suo assistito. In questo modo, ha aggiunto il legale, la persona indagata la possibilità di nominare un consulente per poter partecipare a eventuali accertamenti tecnici non ripetibili finalizzati alla ricostruzione dell'incidente. Non escludiamo, ha concluso l'avvocato, di procedere alla nomina del consulente. L'obiettivo è giungere al più presto alla conclusione della vicenda. L'automobilista, peraltro, è ancora comprensibilmente sotto shock dopo il tragico incidente di martedì. Alla polizia stradale intervenuta subito sul posto. Il 53enne avrebbe riferito di aver visto arrivare la moto di Petriglia a grande velocità verso la sua auto, sulla quale viaggiavano anche suo figlio adolescente e il cane, entrambi praticamente illesi. L'uomo al volante avrebbe tentato di evitare l'impatto sterzando a sinistra, ma la moto che viaggiava in salita ha colpito l'angolo destro dell'auto. Dalle ricostruzioni sembra che la vittima abbia proprio perso il controllo della due ruote, forse per un malore. Il legale dell'automobilista precise inoltre che al suo assistito non è stata combinata alcuna sanzione, nessuna infrazione è stata rilevata da parte sua e l'esito dell'alcol test cui è stato sottoposto era negativo. Sul corpo della vittima non è stata disposta l'autopsia.